Sono 22 in tutto le proposte progettuali presentate per il bilancio partecipativo relativo al 2021 e per l'esattezza 4 per l'area tematica sport, 4 per la cura e bellezza del centro storico e 14 per l'area tematica cultura. Le proposte che dovevano prevedere un costo massimo di 8.000 euro per un totale complessivo di 40.000 euro messi a disposizione per il bilancio partecipativo sono state presentate tutte entro i termini cioè le ore 12 del 10 febbraio 2022. Adesso le stesse saranno valutate dalla commissione valutativa che ha a disposizione 20 giorni per esaminare le proposte esprimendosi sulla fattibilità delle stesse in base ad alcuni criteri e cioè chiarezza del progetto e degli obiettivi, coerenza con l'area tematica, fattibilità tecnica e giuridica degli interventi, compatibilità rispetto agli atti già approvati dal comune, stima dei costi, stima dei tempi di realizzazione, compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. Successivamente sarà pubblicato all'albopretorio un ulteriore avviso con i progetti ammissibili con modalità di valutazione ai termini per la votazione.